Bella a tutti Fortniteers, benvenuti e bentrovati su LeonTube, qui andiamo a fare l'incarico di splinter delle tartaruga ninja, usa la mimetica furtiva impulso elettromagnetico, per andare sul sicuro andiamo qui nell'isola dove abbiamo il nostro NPC che ce la vende al 100%, ci sono altri punti segnati sulla mappa ma io non li ho trovati quindi la garanzia non c'è, mentre qui con Solid Snake ce l'abbiamo di sicuro. Eccolo qui, qua sotto, che se ne sta andando tranquillamente a passeggio, ora scendiamo, ovviamente bisogna avere un po' di oro, altrimenti non riusciamo ad acquistarla, andiamo da lui, la acquistiamo, perfetto, ora ce l'abbiamo e la utilizziamo. E la missione è completata, se il video vi è piaciuto, vi è stato d'aiuto, mi raccomando, mettete un bel mi piace, condividetelo con i vostri amici nei vostri social, non dimenticate di lasciare un commento e come sempre se vi va vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale. Ciao a tutti! Ciao a tutti!